ITER completato per l'ex-APOF diventa concreto lo smantellamento dei pannelli in amianto sollecitato dall'amministrazione comunale di Eboli sul territorio cittadino. L'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha infatti aggiudicato la gara pubblica per attivare la bonifica dell'ex-APOF che sarà finalmente liberata dalla presenza dell'amianto. L'inizio dell'intervento è previsto già entro l'estate dopo l'autorizzazione che si attende dalla prefettura di Salerno. Con la giudicazione di questa gara realizziamo un obiettivo importantissimo sia in termini di legalità sia anche in termini di salute pubblica dei cittadini, spiega il sindaco Massimo Cariello. Voglio ringraziare il comitato Togliamoci l'amianto dalla testa di Eboli per il supporto dato alla struttura comunale. Lo sportello amianto del comune di Eboli è l'intenso lavoro dell'assessore Ennio Ginetti che sarà ora portato avanti dal nuovo assessore all'ambiente Emilio Masala. Grazie. Grazie.